E adesso sulla ringa, Pugini Junior per i contanti, 59 kg, all'angolo blu, dalla posta di pietra del paletta, Andrea Zaddi. All'angolo rosso, la parola lingua, Jock Tennis. All'angolo rosso, la parola lingua, Pugini Junior per i contanti, 59 kg, all'angolo blu, dalla posta di pietra del paletta, Andrea Zaddi. All'angolo rosso, la parola lingua, Pugini Junior per i contanti, 59 kg, all'angolo blu, dalla posta di pietra del paletta, Andrea Zaddi. All'angolo rosso, la parola lingua, Pugini Junior per i contanti, 59 kg, all'angolo blu, dalla posta di pietra del paletta, Andrea Zaddi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.